Speriamo di fare punti a Pagani e poi mercoledì subito con l'Ischia, quindi pensiamo partita dopo partita. Ora archiviamo Cosenza e pensiamo subito alla Paganese. Passare del tempo giocando magari più partite si potrà avere un calo fisico, però quando c'è di mezzo la voglia di lottare e di vincere e di non perdere, penso che sarà dura per tutti, anche se magari fisicamente non saremo al top. La Paganese non la conosco come squadra, conosco due elementi come Kunzi e Carcione. Carcione ci ha giocato insieme l'anno scorso e con Kunzi e l'Ischia. Ci sono dei giocatori importanti, anche Caccavallo, è una squadra che so che fa un bel calcio, fa un 4-3-3 mi pare, è una squadra difficile da battere, poi è una partita fuori casa, però penso che con questo spirito ci potremmo togliere belle soddisfazioni. Poi, come dice il mister, se sono più forti ci prendiamo il cappello e gli facciamo un applauso.